ciao a tutti ed eccoci di nuovo qui con un nuovissimo video oggi vi voglio far vedere come realizzo i canestrelli che sono veramente eccezionali sono veramente una bomba mi piace un sacco proprio perché quando li metti in bocca si sciolgono cioè sono veramente una cosa indescrivibile sono troppo buoni mi raccomando provate lì perché sono veramente veramente eccezionali ma ora basta chiacchiere e incominciamo mettete tutti gli ingredienti in planetaria e fate girare il tutto finché non otterrete un impasto di questa consistenza una volta pronto stendetelo a 8 mm una volta steso prendete lo stampino del classico canestrello se non ce lo avete va benissimo uno stampino qualsiasi e ricavate più biscotti possibili poi appoggiateli su una teglia foderata con carta da forno ora prendete uno stampino rotondo più piccolo e andate a creare nel mezzo un buco inforniamo a 180 gradi per circa 10 minuti una volta cotti lasciateli raffreddare per bene e spolverate sopra tantissimo zucchero a velo e voilà il nostro canestrello è pronto per essere mangiato come avete visto sono veramente super semplici da realizzare quindi è obbligatorio provarli mi raccomando quando andate a realizzare il buco all'interno del canestrello fate il buco non troppo piccolo cioè se realizzate un buco troppo piccolo in cottura il canestrello si va un po a gonfiare quindi se il buco è piccolissimo succede che poi una volta cotto neanche si vedrebbe questo buco quindi mi raccomando fatelo leggermente più grande come come ho fatto io nel video in modo tale che appunto in cottura gonfiandosi il buchetto rimane lo stesso ok fatemi sapere qui sotto nei commenti se li avete provati e come vi sono venuti e mi raccomando lasciate un bel mi piace per aiutare questa pagina a crescere per il momento vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao